Perché Presidente, non basta indossare la felpa dei vigili del fuoco, non basta fare i selfie, non basta dare le pacchie sulle spalle ai nostri eroi, ai nostri servitori dello Stato, non basta, servono i fatti concreti che noi abbiamo fatto. Intervengano gli assistenti parlamentari, per favore. Per favore fate passare gli assistenti parlamentari, bisogna levare lo striscione, durante poi l'intervento di un collega mi sembra davvero assurdo. Trancassini del Mastro delle Vedove, Mollicone, Mollicone deve spellellare all'aula, per favore accompagnate Mollicone fuori dall'aula. Accompagnate Mollicone fuori dall'aula. Mollicone fuori dall'aula. Prego gli assistenti parlamentari. Colleghi, colleghi, colleghi. Colleghi, colleghi, colleghi. Per favore, silenzio. Chiedo gli assistenti parlamentari di accompagnare Mollicone fuori dall'aula. deputato Mollicone, devo farlo accompagnare fuori dall'aula. Ho ripreso tutto. Deputato Mollicone, deputato Mollicone. Colleghi, colleghi, per favore. Silenzio. E' inaccettabile salire sugli scanni, in piedi e fare anche il passaggio da uno scanno all'altro. Questo è inaccettabile. Quindi chiedo agli assistenti parlamentari di accompagnare fuori Mollicone. Colleghi. Sono tutti ripresi quando vanno... Ma questo è un atteggiamento. Deida, Deida, avete... Deida, c'è stato uno striscione, non è possibile avere uno striscione. Deida, Deida, c'è stato uno striscione sui vostri banchi. Colleghi, siete saliti. Mollicone, Mollicone, per favore. Colleghi, colleghi, silenzio, per favore. Colleghi, silenzio che deve completare. Donno, prego, Donno, vada avanti. Grazie, Presidente. Non accettiamo, Presidente, lezioni da chi... Colleghi, dovete far terminare l'intervento. Ehm, la Hurra. permite essere con... Buon appetito, paこの momento! Buon appetito... Grazie, Buon appetito. Ah, oder? Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Grazie.